Ciao ragazzi sono Soleile, benvenuti in questo nuovo video Sta finendo di giocare l'Under 23, hanno dato 3 minuti di recupero, sono al novantesimo Quindi mancano i 3 minuti di recupero, li seguiamo insieme Comunque ragazzi, bella partita Bella partita perché c'erano in campo due squadre che volevano vincerla Fino alla fine Quindi poche perdite di tempo, tutte cose così, mi è piaciuta sta partita Nulla, allora il primo tempo l'ho visto dal ventesimo in poi Perché fino al quindicesimo stavo tornando a casa e stavo facendo il post partita della prima squadra Per adesso stanno 1 a 1, per noi ha segnato The Winter da calcio d'angolo Per loro non mi ricordo il nome del loro marcatore ma era sempre da calcio d'angolo comunque Praticamente cross in mezzo da calcio d'angolo di Miretti e The Winter di testa la mette nel primo palo Anzi no, scusate, nel secondo palo perché stava battendo da destra e la mette nel palo di sinistra Intanto fallo per loro e giallo per Miretti o Leo? Leo mi sembra, sì Vabbè, manca un minuto e dieci secondi, lo seguiamo insieme Attenzione, cioè per carità di Dio ragazzi non fatevi rimontare anche voi perché sennò veramente Vediamo, punizione battuta lunga The Winter la prende ma rimane a disposizione del Piacenza Cross in mezzo, controllo Dribbling in mezzo a 2, viene spazzata Oh, pecorino Contropiede dai che siamo 4 contro 2 Madonna, che chiusura che ha fatto quell'altro Aveva fatto giusto, aveva allargato per Sule che stava arrivando Però quell'altro ha fatto una chiusura veramente mostruosa Ha mandato la palla in calcio d'angolo nonostante fossimo sulla tre quarti Però chiusura ha fatta veramente bene Calcio d'angolo, vediamo Dovrebbe andare a batterlo Miretti se non sbaglio È Miretti quello lì Ragazzi, non vedo niente Cioè le inquadrature di Sport Eleven sono veramente Porco Giuda Vabbè Leo l'ha presa smarcato completamente da solo Però Finisce La partita ha fischiato tre volte E nessuna delle due squadre è contenta di sto pareggio Cioè i giocatori della Juve sono praticamente a terra E i giocatori del Piacenza anche Allora c'è da dire che la Juve ha pareggiato in rimonta Quindi non è da buttare via il pareggio Però come vi dicevo Entrame le squadre giocavano per vincerla sta partita Anche i cambi sono stati per vincerla Da parte di entrambe Quindi nessuna delle due squadre ovviamente è contenta Però vabbè Dai è un buon risultato Che appartiene diciamo a una striscia positiva L'Under 23 mi sembra abbia fatto 5 risultati utili consecutivi In questo non mi ricordo più però Adesso vado a guardare la classifica Comunque Allora Del secondo tempo Vi racconto più che altro del secondo tempo Perché è quello che ho visto meglio C'è stata A parte il gol C'è stata una grossissima occasione Di non mi ricordo chi era Comunque compagnon fa una Una giocata mostruosa Serve una palla al bacio per un suo compagno Che però Cioè no che però Nel senso tira in porta a giro E il portiere non so come la prende E la manda in calcio d'angolo È stata una roba clamorosa Vabbè Loro non mi ricordo Tiri in porta pericolosi Garofani è sempre stato abbastanza Abbastanza tranquillo Ecco l'unica occasione grossa Che hanno avuto è stato appunto Sempre da Garofani Che aveva Aveva Lisciato diciamo il pallone Aveva preso di striscio il pallone E E quindi Diciamo La Ha concesso Diciamo Come caspita è che si dice Non riesco a parlare Cioè nel senso Ha svirgolato il pallone Che è tornato Nei piedi di un giocatore Che era smarcato Della Del Del Piacenza E alla fine Vabbè Si è risolto con tutto Perché Garofani ci ha messo una pezza Lui stesso Quindi Quindi nulla Non è successo niente Di che Adesso guardo la classifica Scusate È per questo che mi Che mi imbambolavo Mentre parlavo Perché Stavo guardando Stavo cercando La classifica Di serie C Allora Noi andiamo Noni Con Pari partite Diciamo Di tutti quanti A parti Del Del Egnago E del Sud Tirol Allora Juventus Ander 23 15 punti Ed è la quarta Partita consecutiva Utile Con un punteggio utile Perché abbiamo pareggiato Le ultime due E abbiamo vinto Le due Prima Quindi andiamo A 15 punti Siamo noni Come ho detto Vi leggo Anche al resto Della classifica Se dovesse interessarvi Il girone A Della Juve Ander 23 Al primo posto Per adesso C'è il Sud Tirol Che però Ha una partita In meno Di tutti gli altri Secondo posto Ha un punto Il Padova Assieme anche Alla Ferralpi Salò E Arrenate Che sono tutti A 23 punti E la quinta È la Provercelli Che ha 19 punti Quindi fra il quarto E il quinto posto C'è già un distacco Di 4 punti Noi Dal quarto posto Siamo distanti 8 punti Già A Manui Non ce ne frega Perché l'importante È entrare Nella zona Playoff Perché non puntiamo Alla promozione Diretta Va beh ragazzi Sempre fino alla fine Forza Juve In questo caso Juve Under 23 Noi ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi Noi ci vediamo